Allora signore, entrare nella mente di un uomo è molto facile, quello che è difficile è entrare nella mente di una donna, quindi vediamo un attimo che cos'è che potete fare, cosa potete mettere in pratica già da quest'oggi, iniziate a fare subito queste cose. Allora per fare innamorare un uomo devi fare le cose giuste, altrimenti rischi di allontanarlo, traduciamo questa frase, di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che se fai le cose sbagliate, ovvero overdose di attenzione e la fai fatta male, quindi la fai senza saperti gestire, quindi senza sapere come ti devi comportare nei suoi confronti, vai a fare un patatrack. L'unica situazione in cui puoi fare un'iperpresenza nei confronti di un uomo è quando sei cosciente che la stai facendo e stai facendo love bombing, altrimenti no, altrimenti stai buona, sei tranquilla, fermina, lì non ti muovere. Quindi capiamo innanzitutto quali sono i desideri inespressi di quest'uomo che ovviamente poi ci possono fornire e capire come produrre attrazione, tra l'altro anche attrazione fisica. Quindi se parliamo di desideri inespressi per un uomo maccione, stiamo parlando del desiderio potenziale del... guardate qua sto facendo palestra, mamma mia, mi sto confiando proprio, madonna, questa è tutta avena, questa avena e carboidrati. Possiamo parlare ovviamente della parte fisica, scusate però che soffro di ADHD quindi ho il disturbo dell'attenzione, quindi mentre faccio il video mi guardo nella telecamera e mi guardo i muscoli. Il video perché sto cercando di allenarmi, di fare qualcosa, quindi questa cosa mi crea anche non indifferente piacere, vedo che c'è la telecamera un po' storta, il mio autismo mi costringe a doverla raddrizzare, forse io che sono storto, andiamo un po'. Va bene così? Sì. Ok, quindi ci dobbiamo stare, ci siamo, bene. Allora, quindi continuando, la fantasia ovviamente classica, tipica di un uomo sarà quella insomma sessuale, quindi quella fisica e ovviamente puoi fare dei giochi di sexting tra l'altro per capire quali sono le sue fantasie, quali sono le cose che lo spingono a insomma desiderarti per poi cercare di incarnarle in qualche modo senza andare a soddisfare subito queste fantasie. Perché il problema principale di molte donne è quello che come sanno che a un uomo piace qualcosa, loro subito, eccomi, eccomi, subito, no, a fare subito le schiave e a dargli subito la fantasia di cui lui ha parlato. No, signore, non funziona così. Si ascolta, si recepisce l'informazione, si entra quindi nella mente di un uomo sapendo quali sono le sue fantasie, chiedendogli addirittura quali sono le cose che gli piacerebbe, quali sono le sue più grandi perversioni, e una volta fatto questo allora poi si può entrare nel vivo dell'azione and action come dicono gli americani e dire ok adesso inizio a magari darmi da fare un po' di più, inizio a essere un po' più, no, meno aulica con lui e inizio a essere un po' più pratica, quindi entro un po' nella dinamica. Questa come linea base, linea generale è importante rispettare perché sarà quella linea importantissima che ti consentirà di fornire e togliere, quindi fornire ovviamente le sue perversioni, togliere poi col passare del tempo le perversioni stesse. Questo modo, questo modus operandi è quello che ti consentirà di sedurre un uomo. Volevo accendere anche questa lucetta carina, mi piace tanto, ultimamente la sto accendendo spesso, e vi do un po' di luce, no, questa luce un po' così, purtroppo così, eh? Che ne dite, vi piace questa cosa un po' così, alla moda si potrebbe dire, e andando avanti quindi, cerchiamo quindi di incarnare queste fantasie fisiche con un uomo solo nei contesti in cui l'uomo ovviamente non se lo aspetta, io vengo da te oggi e sei una mia ragazza, ah sì mi piace quando mi metti i tacchi rossi, domani c'è stata quei tacchi rossi, no, questa cosa non si deve fare, oppure ah mi piace e ti metti il perizoma nero e domani fra 30 secondi c'è il perizoma nero, no, non funziona così, te lo metti fra una settimana, me lo metti fra 10 giorni, mi fai una sorpresa inaspettata fra 15 giorni, e lì vai veramente a segnare il colpo, entri davvero nella mente di un uomo, ok? Quindi questa cosa teniamola sempre in considerazione, signore, se no qua facciamo il brodo, eh? Andiamo avanti. Quindi è importante capire che cosa? Che devi anche, quindi la seconda cosa importante è lasciare che sia l'uomo a impegnarsi a fare delle cose per te, tipo, ti invita a cena, ti porta in giro, fa cose per te, ti sta corteggiando, quindi si deve impegnare, tu devi far sì che il coinvolgimento nei tuoi confronti aumenti e incrementi, perché sarà solo in questo modo, in questa posizione, con questo stile, che riuscirai a, ovviamente, aumentare la sua percezione di interesse, amore, amore, seduzione stessa, che ci sarà nei tuoi confronti. Poi, andando avanti, sarà importante capire anche la comunicazione non verbale. Quindi dovrai osservare i comportamenti e i segnali e i microsegnali di questa persona. Quindi, per esempio, i segnali di gradimento possono essere quando un uomo si porta in avanti nei tuoi confronti, allora quando si porta in avanti nei tuoi confronti a tavola, tu per dispetto ti puoi tirare indietro, ok? Quindi lui si porta avanti così e tu ti porti indietro così. E questo si chiama tu lean on, ok? Quindi lui fa il lean on, si porta in avanti e tu ti sposti indietro. Questi sono dei segnali, ovviamente, di interesse, di attrazione, il fatto che si tira di le pupille, il fatto che, vedete, allarghi le narici quando ti vede, quindi si inizia a allargare le narici come per sniffarti. Infatti, questi sono tutti segnali di gradimento di un uomo. Non capisco perché sulla telecamera è come se ci avessi qualcosa che sbrilluccica, vedo. Spero che voi mi vediate bene, comunque. Ecco, questa quindi come linea generale, come linea importante, fondamentale. Ora, una volta detto questo, quindi una volta fatta questa cosa, cos'è che dovrai, su cosa ti dovrai concentrare? Ti dovrai concentrare su come la persona attribuisce la sua vita e il suo stile di vita. Cioè, nel senso, se lui attribuisce i problemi a se stesso o ad altre persone, ci sarà una differenza, ci sarà una differenza comportamentale. Cioè, devi capire se lui attribuisce responsabilità delle cose che non vanno a se stesso o alle altre persone. Quindi, questo influisce sulla sua predisposizione al desiderio nei tuoi confronti. Quindi, se per esempio lui attribuisce a se stesso i suoi problemi e biasima internamente il suo problema, quindi usa il biasimo interno, allora in quel caso il problema di fondo sarà da attribuire a se stesso spesso. Quindi, per esempio, è colpa mia se non riesco a fare questo, è colpa mia se non riesco a fare queste cose, sono io che non sono bravo a fare X, sono io che sono bravo a fare Y, cose di questo genere, cose di questo stile. In questo caso, allora ti dovrai negare un po' di più, perché quando ti negherai lui si darà la colpa a se stesso e quindi creerà un circolo vizioso per iniziare a essere più presente nei tuoi confronti o fare di più. Quindi una persona che ha un biasimo interno, tipo io, deve avere qualcuno che si nega di più, quindi che è meno presente nella sua vita, meno volenteroso nel volersi concedere. Ora, se invece attribuisce i suoi problemi all'esterno, allora potrai essere una donna tendenzialmente un po' più presente, ok? E questo sicuramente sarà una differenza, quindi potrai essere ancora più pressante. Quindi, per esempio, chi accusa sempre fuori gli altri, ah, è colpa loro, è colpa di questo, è colpa dello Stato, è colpa dei politici, chi usa questo stile di pressione sociale, di autobiasimo esterno, può essere pressato, può essere spinto e forzato, e quindi puoi essere molto più presente con lui e convertirlo quasi con quest'iperpresenza a, ovviamente, poi passare il tempo con te e stare con te. Quindi, dovrai comunque mantenere il distacco dal risultato quando provi a entrare nella mente di un ragazzo e mantenerti con un assetto irriverente nei confronti della persona che desideri, perché altrimenti non riuscirai a mantenere la tua forza interiore, perché se tu ti spingi costantemente a vivere eseguendo le aspettative della tua vita, vivrai veramente una vita di M, per non dire peggio. E alla fine dei conti, poi, dovrai valutare i comportamenti di questa persona e non solo le parole. Quindi, dovrai vedere come si comporta, perché per entrare davvero nella mente di un ragazzo sarà necessario capire e vedere gli atteggiamenti, i comportamenti che collimano con quello che dice, con quello che promette. Per analizzarlo, ok, puoi per assurdo valutarlo al contrario. Quindi, se un uomo, per esempio, se ne esce da nulla e ti confessa di essere innamorato da te, allora forse non ti ama davvero. Se invece un uomo non ti confessa l'amore, ma lo tiene ricondito e nascosto, puoi valutare il contrario, forse ti interessa davvero. Perché una persona che espone molto alcune cose, con un fare, tra virgolette, alterato, quindi iperesteso, quindi espone tanto, in realtà nasconde dietro l'esatto opposto. Quindi chi nasconde, per esempio, una forte bellezza estetica, nasconde dietro i demoni. No, questo lo diceva Freud. Ecco, quindi se una persona si mette sempre a disposizione per soddisfare le tue esigenze, invece potrebbe essere un segnale di coinvolgimento. Ma non deve ovviamente anticiparle a parole e dirle così tanto, quindi esprimersi come se fosse il salvatore del mondo. Se un uomo si espone a te, si esprime a te come se fosse il salvatore del mondo, incomincerai a farmi le tue domande e mi inizierai a preoccupare seriamente. Se vuoi davvero sedurre un uomo, seguimi qui e su tutti gli altri social. In descrizione trovi tutte le informazioni. See you in the next.